Musica Musica Colleghe e colleghi buongiorno, torniamo a parlare di codice della crisi e disciplina transitoria perché il Tribunale di Bologna ha sparigliato un po' le carte. A luglio, con l'ingresso del nuovo codice della crisi, quindi dal 15 luglio, si è posto il problema di quelle che sono le procedure pendenti, ovvero che hanno un inizio prima dell'entrata in vigore del codice della crisi, quindi ad esempio un deposito di un'istanza precedente, di un'istanza di fallimento precedente, ma una conclusione successiva. E quindi quelle che sono delle situazioni in cui potremmo trovare un conflitto di applicazione tra le norme. Il Tribunale di Roma era andato in una chiara direzione. Anche se c'è pendente una prefallimentare, il concordato introdotto successivamente segue la normativa del codice della crisi. Udine invece, e seguita anche da Verona e da altri tribunali, era andata diametralmente opposta. Quindi chi apre la procedura è l'istanza di fallimento. Se all'interno della prefallimentare viene fatta un'istanza ex 161,6, quindi il concordato in bianco, bene, questo resta nell'alveo della normativa precedente perché ha avuto origine all'interno di una procedura già aperta. Ebbene, 29 settembre, il Tribunale di Bologna spariglia completamente le carte e ritorna, motivando decisamente in maniera più articolata e su alcuni passaggi anche molto interessanti, motiva la posizione rispetto a quella che era la scelta romana. E quindi ritorna dicendo, attenzione, istanza di fallimento del 12 di luglio, apre un procedimento prefallimentare. Istanza della prima settimana di settembre in cui viene richiesto un concordato ex articolo 48 e non 161, è giusto perché, secondo l'impostazione di Bologna, in realtà se il concordato fosse parte della procedura prefallimentare, non ne avrebbe fatta menzione il legislatore nel 390 primo comma. Quindi sostanzialmente dice, la prefallimentare ha una sua vita, il concordato in realtà non è parte della prefallimentare, ma è un istituto a sé, che viene ad avere una natura propria solo quando è già stato introdotto. Nell'ipotesi semplice del dire, prefallimentare il 25 di maggio, istanza di concordato il 14 di luglio, questo segue la vecchia norma, istanza di concordato il 16 di luglio, questo segue la nuova normativa. Ecco che si aprono degli scenari complessi e complicati, perché? Perché la nostra situazione può essere proprio quella di dire, noi abbiamo un concordato, questo ad esempio di Bologna, che è stato aperto nel settembre, secondo il codice della crisi, e quindi seguirà quel binario, contemporaneamente c'è congelata dietro le spalle, una istanza di fallimento. Questa istanza di fallimento potrà avere due sfoghi naturali. Uno, la conclusione, perché il concordato viene approvato dai creditori e di conseguenza l'istanza di fallimento va a chiudersi, a morire. Oppure il concordato non viene approvato, l'istanza di fallimento e quindi la prefallimentare, il tribunale deciderà a questo punto per il fallimento della società. Quindi la nostra situazione è che potremmo avere una prefallimentare vecchio rito che muore e continua il concordato con il nuovo rito, una prefallimentare che sopravvive e che trasforma un concordato, secondo il codice della crisi, in un fallimento secondo il vecchio rito, quindi secondo la legge fallimentare. Ma la cosa più anomala potrebbe essere che questo concordato non viene poi eseguito correttamente, quindi vi è un'istanza di fallimento successiva, che quindi non si riferisce più alla posizione precedente e quindi il concordato potrebbe poi sfociare in un secondo momento in un fallimento nuovo rito. Ecco, capite che se ogni tribunale decide la posizione in maniera autonoma, noi per i prossimi due o tre mesi siamo in situazioni profondamente limbiche, anche perché se questo concordato non andasse in porto, avremmo magari fra un anno, un anno e mezzo, un fallimento dichiarato con il vecchio rito, ma che ha avuto nel frattempo un pezzo di procedura secondo il nuovo codice della crisi. Sarebbe opportuno che su questo i tribunali prendessero un'unica posizione, perché altrimenti ci si ritrova sempre che si deve fare un po' la cavia man mano che si lavora su quelle che sono queste posizioni. Perché non tutto è sovrapponibile, quindi vi sono situazioni molto diverse, perché i concordati, secondo la precedente normativa, non sono identici agli strumenti che si hanno con la nuova normativa e quindi questo può essere un passaggio che in un tribunale viene ammesso e in un altro no. E quindi potrebbe creare grosse difficoltà anche, non solo per gli imprenditori, ma soprattutto per noi consulenti. Buon lavoro e buon inizio di autunno e avvicinamento alle dichiarazioni, quindi alle spedizioni telematiche, perché ci stiamo apprestando con i 770 per poi andare in dirittura con tutto il mondo degli unici. Buon lavoro a tutti, anche e soprattutto ai non concorsualisti. Grazie. Grazie.